Siamo in compagnia di Riccardo Errani, campione italiano per quanto riguarda il quinto raggruppamento di Velocità su Ghiaccio 2004. Cinque appuntamenti affrontati e noi siamo proprio qui per sentire com'è andata. Bene, ciao Riccardo, allora una grande vittoria, un gran merito quest'anno, campione italiano 2004. Tra l'altro conquistato affrontando, come dicevo poco fa, cinque appuntamenti importanti. Val di Fiemme, diversi in Val di Fiemme, vicino a Sestriera, a Livigno, quindi tutti su neve e ghiaccio. Innanzitutto ci presenti la tua autovettura e soprattutto chi ha partecipato a questo campionato. Sì, quest'anno abbiamo affrontato questo campionato pensando di non riuscire a fare tutte le gare. Invece per una sfortuna che è capitata al rally di Monte Carlo, che abbiamo avuto la rottura del motore, e ho partecipato praticamente a tutte le gare ed è stato un risultato quasi inaspettato, però alla fine è stato con grande piacere di tutta la squadra. Per parlare un attimo delle vetture che erano presenti su questo campionato, c'è da dire il discorso Delta, che magari si può intendere ancora una vettura vecchia, però questa vettura ha giusto la fisionomia di una vettura Delta, perché è completamente diversa. Altre vetture, come dicevo, la Subaru, Mitsubishi, abbiamo avuto Audi, perciò vetture anche interessanti e non solo, anche per un discorso commerciale portato avanti un po' da altri piloti, ha creato questo campionato interesse anche per la stampa. Riccardo, due prove per ogni appuntamento. Tu sei partito alla grande perché il 4 gennaio in Val di Fiemme ti ha visto vincitore di entrambe le prove, giusto? La gara si è sviluppata benissimo, non ero partito in testa, però alla fine sono riuscito comunque in tutte e due le prove a vincere le gare, a vincere tutte e due le Mas, di conseguenza sono partito subito con 9-9-18 punti, che mi ha portato ad essere praticamente sempre primo nel campionato. Al secondo appuntamento invece, l'11 gennaio, sempre in Val di Fiemme, tu ti sei aggiudicato un terzo posto. Quali difficoltà hai incontrato nelle due gare di questo appuntamento? Sì, entrando nella seconda prova, il problema è stato che c'è stato un cambiamento del regolamento delle gomme e questo ha portato praticamente ad altri piloti a sviluppare il discorso pneumatico, invece io bene o male non sono riuscito a portarlo avanti anche perché pensavo che il mio vecchio tipo di pneumatico di essere comunque competitivo. Invece questo non è stato e dopo nelle altre gare ho cercato di svilupparlo e nella terza gara abbiamo migliorato il discorso delle gomme, però purtroppo abbiamo avuto un problema col motore e siamo riusciti solamente a fare un secondo posto e in una Mas addirittura non riuscire a partire. Altro appuntamento, il penultimo, sempre in Val di Fiemme, un altro terzo posto. E poi siamo arrivati alla giornata decisiva, all'8 di febbraio a Livigno. Questa credo sia stata una grande giornata. Sì, la penultima gara è stata anche quella, una gara difficile, ero comunque con le gomme come gli altri quasi, però la gara è andata in un modo diverso perché c'è da dire che comunque anche gli altri piloti si danno da fare. Non è che il campionato, onestamente, è stato un campionato duro, devo riconoscere che gli altri concorrenti erano tutti ad alto livello, anche perché poi queste gare comunque si parte, si gareggia in 12 vetture dentro la pista, dentro il circuito, che di solito è dagli 800 ai 1000 metri. Perciò 12 vetture dentro, sul ghiaccio, sulla neve, a volte non è facile. Tanto non è facile sorpassare soprattutto in Val di Fiemme. E c'è praticamente solo una curva che è possibile sorpassare. Perciò se uno parte quarto o quinto, difficilmente riesce a vincere. Perciò il problema in quella gara è stato quello. L'ultima gara, diciamo, sono riuscito a fare l'assoluto, a fare il miglior tempo nelle prove. L'unico problema c'era che, partendo anche in testa, nelle semifinali, partivo in testa e mi ritrovavo secondo o terzo perché la vettura non partiva. Cioè noi avevamo un tipo di gomma sviluppata eccezionale, però non adatto per questo tipo di percorso. Cioè con una chiudatura particolare che comunque in partenza la macchina non aveva aderenza. Perciò partivo primo ma mi ritrovavo quarto o quinto. Sia nelle semifinali sono riuscito a rimontare e ho vinto. Alla fine, anche in finale, sono partito e sono partito terzo, sono riuscito a vincere. Nell'altra finale sono partito sempre in testa, sono finito secondo e diciamo che il sorpasso l'ho fatto praticamente dopo due giri. Allora, noi ti ringraziamo.